La, 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 105 non so Abbiamo uno studio bellissimo a Radio 105 che io ho sempre ribattezzato lo studio astronave sembra un po' un'astronave no questo? e di solito lo utilizziamo quando arrivano a trovarci degli amici e arriva a trovarci più di un amico in questo momento ne ho tre Giulia Michelini, Paolo Genovese, Sabrina Impacciatore parte del cast perché voi siete tantissimi di Sei mai stata sulla Luna? Ho visto il manifesto, c'è proprio vicino alla radio un manifesto del vostro film che chiaramente rappresenta i due mondi quello della città un po' infighettata quindi Milano suppongo e quello invece della campagna immagino che il film giochi molto tra stili di vita differenti Paolo dovrei chiedere a te la prima cosa ma sai che però per cavalleria voglio che rispondano prima o Sabrina o Giulia Giulia, Giulia, no questa la sai Giulia Giulia la sai tu? Giulia la sai? Contrapposizione campagna città Sì ma in realtà appunto non penso che Paolo sì c'è un po' questo gioco campagna città ma in realtà il bello di questa cosa è che in realtà non il peso, il piatto della bilancia non pende da una parte né da un'altra non si vuole non c'è un vincitore alla fine insomma giusto Paolo non ci sono i cattivi di solito i cattivi stanno in città i buoni stanno in campagna no no l'avevo immaginata un po' così eh qua mi sa che con l'occhio nero esce la città invece no invece no alla fine non c'è il giudizio di merito in città si sta bene in fondo io so benissimo in campagna anche si completano ecco le realtà e si sposano anche in un certo senso in qualche modo in qualche modo senza anticipare niente no no perché ho detto una cosa in realtà forviante no sì e no solo Paolo puoi rispondere sei forviante o no solo Sabrina può rispondere questi sono i suoi percorsi mentali non ho proprio idea di cosa stia dicendo comunque un matrimonio no comunque c'è un funerale no la domanda che vorrei fare adesso allora a Sabrina è questa sei mai stata sulla luna e tu mi dovresti chiedere sei mai stata sulla terra sei mai a terra perché io purtroppo la mia dimensione è assolutamente quella della luna e quindi ogni tanto plano sul pianeta terra e infatti mi trovo molto a disagio con gli umani e avete girato sei mai stata sulla luna quando Paolo avete fatto le riprese è roba recente di qualche mese fa o ormai siamo a un anno fa no quest'estate abbiamo girato fine agosto settembre ottobre Puglia ci ha accolto meravigliosamente Martina Franca Nardò questi ah conosco si meravigliosi che bello il Salento mamma mia meraviglioso quindi avete girato d'estate nel Salento esatto lo dico io parlo io semplice commedia romantica dove una milanese diciamo acquisita perché in realtà è una spagnola che lavora nel mondo della moda ricca figa snob gira in Maserati vola in jet privato si ritrova improvvisamente in un piccolo paesino della Puglia ereditando una masseria e perde la testa per il contadino locale ah ok questo in sintesi poi c'è tutto un carosello di personaggi meravigliosi interessanti in questo paese la cui vita in qualche modo viene sconvolta dall'arrivo della ricca e bella milanese e della sua altrettanto bella assistente che è Giulia come hai vestito i panni dell'assistente Giulia bene bene ti sei milanesita e quindi anche un po' milanesita imbruttita sai che c'è il milanese com'è che il milanese imbruttito c'è questa pagina facebook molto famosa che fa il verso a tutto quello che fanno i milanesi no? e quindi volevo chiederti se ti hai rimesso i panni proprio di una tipica milanese beh oddio adesso tipica non so dirti insomma ho cercato di di ho fatto del mio meglio per infighettirmi un po' per avere un po' di puzza sotto al naso è certo è certo però ok Sabrina tu in tutto questo cosa fai invece? io sono Mara sei Mara stai nel Salento tu? io sì sono nel Salento e rappresento il femminile romantico quello che sogna l'amore per eccellenza che vive in questo fantasia d'amore e cerca disgraziatamente l'amore su internet ah ok collezionando tutta una serie ti prego però scusa io vorrei che Sabrina continuasse a raccontare il suo personaggio in Pugliese no è una buona idea ha fatto un lavoro pazzesco lei non era non recitava in Pugliese era diventata una Pugliese poi a cena ti prego dacci un assaglio ma ho dimenticato che cosa posso dire che cosmo che l'amore è una cosmo meravigliosa come sappiamo no faccio una domanda a Sabrina Pugliese quando tu come ti chiami nel film Mara Mara quando vedi arrivare da Milano queste due ragazze cosa provi come pensi che loro vivano l'amore in modo molto diverso da te sì però sono affascinata le vedo sono diverse vestono bene sì sono molto eleganti e vestono alta moda ma molto alta molto alta molto più alta di me molto alta il motivo per il quale i film ultimamente escono di giovedì e credo che Sabrina mi ha dato una risposta più che logica per prendere un po' più dalla distanza al weekend no? immagino di sì sarà per quello Paolo sì per prendere un po' la rincorsa eh esatto perché la performance alla fine il film la fa durante il weekend dove e il primo weekend è quello che conta salute Giulia è il primo weekend è quello che fa un po' la differenza dovete andare al cinema in questa settimana il 22 il 23 il 24 il 25 non prendete impegni al cinema sulla luna tutti quanti sei mai stata sulla luna la cosa incredibile è che Francesco De Gregorio ha scritto la canzone di questo film sì 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 è questo vero è importante no è molto importante è quello che diceva Sabrina dovresti mandarla nei prossimi giorni in questa radio sai perché è molto importante perché ho avuto il piacere di incontrare il maestro De Gregorio forse un mese fa in questo programma parlo credo a nome di tutta Radio 105 è stato qui da noi a fare un paio di interviste e per due o tre giorni in radio si parlava solo della presenza di Francesco De Gregorio che vi ha fatto un bel regalo un regalo meraviglioso proprio e anche inatteso ci siamo incontrati per caso in realtà io a un festival ero lì che ora glielo chiedere glielo chiedere glielo chiedere nel momento in cui stavo per chiedere di fare una canzone siamo messi a chiacchierare mi ha detto senti mi piacerebbe leggere la tua sceneggiatura perché sei l'unico che non mi ha chiesto di farlo io così che stavo lì il tempismo è tutto nella vita il tempismo è perfetto dico sì ma non mi sarei mai permesso maestro no scherzi a parte ha fatto questa canzone meravigliosa che si chiama tra l'altro sei messata sulla luna perché non ce l'avete perché non l'avete mandata molto grave ma siete impreparati molto impreparati sì sì la colpa è la colpa sappiate è di Davide Livraghi bravo bravo che salutiamo per aver curato la parte tecnica del programma ma notiamo e evidenziamo anche la sua impreparazione va bene nella puntata di domani mandate questa mi piace Sabrina come rimane sul pezzo Sabrina è proprio sul pezzo un cagnaccio io vi ringrazio molto Giulia Michelini Paolo Genovese e Sabrina Impacciatore in bocca al lupo crepi lupo merda 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 merdissima andate al cinema giovedì esce Sei mai stata sulla luna noi torniamo domani alla stessa ora qui su 105 ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.